ben trovati siamo su Tourism Peschiera mercoledì e siamo di nuovo arrivati al nostro consueto appuntamento con la storia con le curiosità su Peschiera del Garda in questo caso siamo diciamo nella parte terminale del canale della fossetta uno dei quattro canali che circondano queste che sono le mura storiche per teguoni unesco di Peschiera del Garda questo è un canale che fu scavato artificialmente a secoli fa chiaramente per creare una zona di protezione e limitazione per le mura quindi diciamo un sistema difensivo oltre la portina muraria e oggi vi racconto qualcosa di particolare ma soprattutto di poco conosciuto ovvero di quelli che erano i controbastioni e comunque delle cinte murarie opposte alle mura che servono proprio a difendere le zone magari un po più critiche o comunque le parti bastionate a Porta Brescia per esempio li potete vedere scendendo nel ponte all'interno del paese di Peschiera sulla vostra destra sulla vostra sinistra questi controbastioni e qui al termine di questo canale abbiamo questo questo sistema murario che è molto alto che cosa serve serve proprio a proteggere il saliente del bastione cantarano e questo è il bastione cantarano quindi abbiamo la cortina del bastione l'angolo bastionato che sale a prua come fosse una prua di una nave lo vedremo tra un attimo questo sistema murario che in un certo senso lo andava a difendere comunque a proteggere infatti vedendo come si sviluppa questa struttura muraria vedremo che appena avanti a me pochi passi comincerà a ruotare verso l'acqua e interrotto perché chiaramente con i lavori di ristrutturazione comunque di modifica degli accessi a Peschiera e la struttura diciamo difensive sono molto cambiate anche perché nei tempi recenti hanno anche perso la loro importanza difensiva quindi questo sistema murario fu completamente scavato e distrutto per lasciare spazio a un accesso lungo il canale però la testimonianza come vedete in queste foto è molto chiara ovvero sul fondo di questo canale c'è il diciamo il basamento che continua in questo momento sommerso sotto acqua e vi fa capire come questo sistema murario che state vedendo in questo momento alla vostra destra era collegato e si proiettava in acqua a chiusura quasi di questo ingresso bastionato ovvero di questo saliente di bastione cantarane quindi la fortezza era a sua volta racchiusa da dei contro bastioni che servivano proprio a protezione della fortezza stessa e poi addirittura nel periodo risorgimentale sia con l'arrivo delle truppe francesi sia con le truppe dell'esercito asburgico venne costruiti dei forti a corona intorno a questa fortezza ad ulteriore protezione quindi potete capire che erano come vari sistemi uno sopra l'altro di protezione questo sicuramente era un sistema di protezione di questa cortina muraria che è completamente andato distrutto abbiamo soltanto questo residuo diciamo che sembra un muro di contenimento ma aveva comunque una sua funzione e quindi come tu nel peschiera ci sembrava carino ricordarlo ma anche perché perché da questo punto in cui siamo adesso passa una delle ciclabili più frequentate d'europa che l'euro velo 7 che congiunge peschiera a borghetto passando per ponti sul mincio dove si trova il bellissimo forte ardietti che come vi dicevo poco fa è uno dei forti costruiti nell'ottocento a protezione di peschiera visitabile passate anche da mont zambano che è una bellissima cittadina con un castello medievale ancora molto ben conservato per arrivare a borghetto che è uno dei borghi medievali più belli d'italia e continuare poi lungo il fiume mincio che proprio comincia alle mie spalle fino alla città di mantova patrimonio unesco bellissima assolutamente da visitare quindi capite che il passaggio a peschiera sia che voi siete in bicicletta o a piedi beh passare lungo le mura sopra le mura alla base delle muro all'interno della città beh si cammina sulla storia si cammina su una stratificazione culturale e di eventi e di diciamo sedimi storici incredibile ecco quindi la volontà di farveli scoprire di farveli apprezzare magari passando con la bicicletta appena sarà il periodo più bello che è la primavera secondo me beh tra gli stabilimenti teogenici tra i muri di protezione della città tra le mura ne esco questi fantastici canali che si condannano fortezza probabilmente come noi porterete anche voi peschiera nel cuore e quindi io vi saluto mi do appuntamento mercoledì prossimo sempre su turismo peschiera perché affronteremo altri temi legati alla storia alla cultura piccole pillole sugli avvenimenti più importanti che si sono susseguiti a peschiera per farvi capire quanto sia fantastica questa città e quanto ci teniamo a mostrarvela e a presentarvela nella sua bellezza grazie viva peschiera e viva al Lago Riccardo